Il vaccino anticovid efficace non solo nei confronti della malattia ma anche contro l'infezione e la protezione fornita dal vaccino si stima intorno al 62% nel periodo compreso tra il 14esimo e il 20esimo giorno dopo la prima dose. Sale all'87,9% tra il 21esimo e il 27esimo. A sette giorni dalla seconda dose l'efficacia arriva al 96%. Le evidenze consentono di sottolineare l'assoluta efficacia e sicurezza del vaccino il ruolo della vaccinazione nella prevenzione della circolazione del virus in un setting ospedaliero. A dichiararlo il professor Silvio Tafuri, docente di igiene dell'Università degli Studi di Bari è responsabile della Control Room Covid del Policlinico in base a uno studio specifico realizzato dalla stessa struttura. Il gruppo di lavoro ha analizzato i dati relativi agli operatori sanitari in servizio al Policlinico che secondo il protocollo interno dell'azienda vengono sottoposti a tampone molecolare ogni 15 giorni. Sono stati confrontati due gruppi, il primo composto da 1.607 operatori sanitari vaccinati entro il 31 gennaio 2021, il secondo di 427 non vaccinati. L'obiettivo dello studio è stato quello di valutare l'efficacia del vaccino. Lo studio non ha indagato solo chi si è ammalato, ma anche quei soggetti risultati positivi al virus pur restando asintomatici. Il tasso di incidenza dell'infezione è risultato più alto nei soggetti non vaccinati. Il Covid infetta 2,45 su 1.000 persone tra i non vaccinati, mentre solo 0,54 su 1.000 tra chi ha ricevuto la somministrazione del vaccino. Riguardo la sicurezza dei vaccini durante il follow-up, non sono stati segnalati eventi avversi a medio e lungo periodo. L'importanza della vaccinazione all'interno di un ospedale è duplice perché vaccinandosi un operatore sanitario non protegge solo se stesso, ma anche i pazienti, spiega ancora il professor Tafuri. I dati emersi attraverso lo studio dimostrano come il vaccino serve a prevenire anche l'infezione da SARS-CoV-2 e dunque, nel caso del policlinico, proteggere da un eventuale contagio tutto l'ospedale.